Non più dieci anni di reclusione in una Rems, i vecchi ospedali psichiatrici giudiziari, ma solamente due anni di libertà vigilata. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha infatti accolto il ricorso presentato dalla difesa di Giacomo Ciriello, il giovane di Lucignano che uccise il padre con un colpo di fucile nel febbraio 2016, riformando la sentenza di primo grado e cancellando di fatto la parte più pesante di quanto è deciso circa un anno fa dal cupo a Giampiero Borraccia. Quindi è un regime non contenitivo, quindi non ci sono sbarre dalle finestre in questo tipo di struttura, sono strutture aperte e verrà predisposto un programma terapeutico cuscito su misura per lui in modo che si riesca a aiutarlo, a facilitare questo recupero psicologico e psichiatrico in vista di una guarigione che tutti pensano possa avvenire. Il giovane avrà il vincolo di dimora nel comune di Abbadia San Salvatore dove si trova dal momento della sentenza ospitato nella struttura I Prati. Decisiva è stata la consulenza psichiatrica sul ragazzo che aveva portato alla soluzione al processo in quanto incapace di intendere volere al momento del delitto. Si tratta di un disturbo schizotipico che ovviamente è ben lungi dalla schizofrenia perché il disturbo schizotipico è un fenomeno transitorio, la schizofrenia è una malattia ovviamente che è continua. Rimane comunque la pericolosità sociale. Forse più per se stesso che per gli altri ma comunque insomma c'è sicuramente una pericolosità sociale. Si tratta di valutarne il grado però. Mentre il GIP di Arezzo ritenne che fosse di elevato grado questa pericolosità sociale, il Tribunale di Sorveglianza, rivalutando la documentazione sanitaria, ha ritenuto che questa elevata pericolosità sociale sia attenuata. Giacomo Ciriello quel febbraio 2016 dopo l'ennesima lita attese il padre sul terrazzo, poi l'uccisa a fucilate ed infine chiamò i carabinieri per autodenunciarsi. È evidente che avesse delle problematiche di un certo tipo, è evidente che ha avuto un'infanzia estremamente difficile però ancora non l'ha elaborata e ancora non ne parla in maniera compiuta. Del futuro ne parla invece? Sì, del futuro ne parla già con più cognizione di causa. Vuole riprendere gli studi, ambisce quindi a terminare quello che è il suo percorso scolastico e poi intraprendere una professione.